Musica Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Tg6 che apriamo parlando dei lavoratori interinali dell'Attiva che questo pomeriggio a Pescara hanno bloccato il Consiglio Comunale per cercare di ottenere più garanzie per il loro posto di lavoro il servizio di Alfredo Primante Continua la protesta dei lavoratori interinali di Attiva che hanno bloccato i lavori del Consiglio Comunale di Pescara impegnato in seduta straordinaria nella discussione del progetto del primo lotto della filovia sulla strada Parco Sono una settantina i dipendenti della partecipata del Comune di Pescara che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città che chiedono all'amministrazione di essere stabilizzati anche e soprattutto dopo il concorso per l'assunzione di 60 persone indetto proprio da Attiva dal quale, dicono i lavoratori, molti di loro sono stati esclusi già nella fase preselettiva quando non aveva valore il punteggio maturato con l'anzianità di servizio Siccome la legge italiana, la legge europea dice che dopo 36 mesi di lavoro un lavoratore ha diritto a quello che effettivamente sta facendo ovvero un tipo di contratto indeterminato noi abbiamo semplicemente richiesto quello che ci spetta per legge C'è gente che ha otto anni, otto anni, mese per mese a firmare il contratto ma questa è una storia che si comincia a sapere in giro Al sindaco Marco Alessandrini e al vice Enzo del Vecchio che le maestranze hanno incontrato nella sala giunta sono state chieste spiegazioni del perché non si sia provveduto prima a stabilizzare i lavoratori interinali presente anche Camillo D'Addario uno dei lavoratori che ha vinto la causa contrattiva e per cui il giudice di primo grado ha disposto il reintegro nel posto di lavoro causa però per la quale pende il ricorso in appello Il rappresentante dei lavoratori Vogliamo che si risolva questa situazione preferiremmo non per vie legali perché ci rendiamo conto che 70 cause contro il Comune di Pescara di questi tempi sicuramente non fanno bene alle casse della cittadinanza Io ho lasciato il mio numero personale al sindaco e gli ho proposto di indire un tavolo tecnico con rappresentanti dei lavoratori interinali del Comune di Pescara in quanto ente appaltante e socio-unico dell'attiva SPA e dell'attiva SPA stessa È una situazione inaspettata che chiaramente mette in difficoltà e in disagio molte famiglie cercheremo di trovare per quanto possibile una soluzione Cosa può fare il Comune? Ma quello che può fare il Comune è molto poco poiché il rispetto della norma procedurale in atto è indubbio che non possa essere travalicata insomma si creerebbero delle disparità sia con gli attuali che con i precedenti Quello che bisogna fare è trovare una norma che possa salvare non solo parte di questo personale ma anche quello di altre società per le quali abbiamo lo stesso identico problema E la protesta dei lavoratori attiva non si è fermata in Consiglio Comunale infatti nella sera hanno bloccato pacificamente per alcuni minuti Corso Vittorio Emanuele e Piazza Italia creando qualche disagio prima dell'arrivo degli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a regolare il traffico veicolare sul posto abbiamo costruito questo masterplan su questa articolazione di priorità Ora passiamo invece alla cronaca regionale un'occasione di crescita per la nostra regione così è stato definito il masterplan Abruzzo che il Presidente D'Alfonso presenterà a Roma al sottosegretario Luca Lotti il servizio di Paolo Renzetti Abbiamo costruito questo masterplan su questa articolazione di priorità intanto l'ambiente il risanamento di tutti i siti inquinati il completamento dell'efficienza dei depuratori le piste ciclabili per fare in modo che questa sia una regione riconoscibile in Europa per il cicloturismo e per le ciclovie poi la banda ultralarga nelle zone industriali poi ancora il completamento del ciclo idrico integrato dal punto di vista della sua efficienza poi molta trasportistica su gomma su ferro, su acqua il completamento dei porti abruzzesi alcune importanti connettività ferro-gomma per esempio per quanto riguarda l'Aquila Pescara per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pescara e poi c'è il quarto lotto della Terramo Mare c'è l'ultimo miglio che concerne il porto di Vasto un importante focus di investimenti su Ortona e Pescara e poi una grande scelta di campo abbiamo fatto su alcuni contenitori straordinari culturali penso alla Badia di Sulmona che verrà completata con 12 milioni di euro diventa il luogo dello spirito d'Abruzzo o il manicomio di Teramo o l'Abruzzo regione della vista con la Dompe e l'università di Chieti e poi ancora lo zoo profilattico a Teramo che diventa oggetto di un importante investimento per i laboratori insomma si tratta della pratica, della cultura, della priorità e della cultura della collaborazione istituzionale noi entro 24 mesi un terzo di questi investimenti devono essere completati un altro terzo deve essere avviato e poi il resto si sviluppa di qui a 5 anni e un altro appuntamento importante prima della chiusura dell'anno 2015 è quello del bilancio di previsione regionale e proprio su questo argomento il Movimento 5 Stelle dice che c'è poca trasparenza il servizio di Daniela Rosone si accende il dibattito come ogni anno in Regione sull'approvazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo che sarà votato nella prossima seduta del 29 dicembre interviene la consigliera pentastellata Sara Marcozzi che parla di mancanza di trasparenza sul bilancio regionale in quanto dice ad un anno e mezzo dall'insediamento del Consiglio non sono state ancora consegnate ai consiglieri credenziali di accesso e password personale al sistema informativo contabile in dotazione agli uffici finanziari del Consiglio grazie al quale ogni consigliere, spiega la Marcozzi sarebbe in grado di accedere autonomamente alle informazioni relative alla capienza dei capitoli di bilancio e alle disponibilità stanziate nel sottolineare che è il secondo anno consecutivo che i consiglieri vengono chiamati ad approvare bilancio e legge finanziaria della Regione Abruzzo completamente al buio il Movimento 5 Stelle afferma che le segnalazioni in questo senso fatte già prima dell'approvazione dello scorso anno sono rimaste sempre inascoltate nell'indifferenza generale del Presidente del Consiglio del Presidente della Giunta e del Direttore Generale della Regione Abruzzo intervengono anche le associazioni ambientaliste che chiedono alla Regione non solo il taglio di fondi ma anche un piano di rilancio per un settore fino ad oggi troppo penalizzato vediamo il servizio Parchi naturalistici d'Abruzzo Parco Velino Sirente le associazioni chiedono un intervento urgente della Regione e ci sono dei tagli di fondi manca anche il piano paesaggistico chiedete risposte alla politica noi ci troviamo di fronte all'unico parco regionale la cui legge deve essere rimodulata ed è stata presentata una proposta ma che da oltre 12 mesi non si conosce il destino di questa norma e soprattutto non si conoscono i tempi entro i quali si procederà alla ricostruzione degli organi per dare una democrazia all'interno dello stesso ente e soprattutto un'organizzazione decisionale che sia quanto più vicina possibile alle rispondenze delle realtà locali ci troviamo di fronte anche rispetto alla stessa legge degli emendamenti presentati da comunità locali che vanno in senso opposto a quello che dovrebbe essere la corretta gestione di un'area protetta di interesse regionale come è il Parco Sirente Velino nel contempo assistiamo ad un taglio continuo delle risorse disponibili per le riserve naturali regionali ricordiamo che sono 25 occupano oltre 200 addetti ed erogano servizi di altissimo profilo quali quantitativi anche in termini turistici oltre che di protezione naturale e noi riusciamo a conoscere il quantum delle risorse destinate per il 2016 a queste aree veniamo da due anni di tagli del 14 e del 7% veniamo da due anni senza che vengano assegnati dei fondi straordinari per le montazioni delle strutture veniamo da due anni di caos assoluto rispetto a quelle che sono le esigenze di queste aree protette che rappresentano uno sfogo anche economico per le realtà locali per ogni euro investito pubblico noi tornano 4 di indotto secondo studi e noi riusciamo ad intendere per quale ragione la regione verde d'Europa abbia un'amministrazione regionale che tutto fa meno che considerare queste realtà chiediamo un'inversione di rotta e lo chiediamo con tutta l'attenzione necessaria da parte degli organismi decisori perché questo potrebbe voler significare distruggere il futuro della nostra regione Ed ora la cronaca un sequestro da parte della Guardia di Finanza di Pescara per 663 mila prodotti contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza l'operazione ha avuto avvio con il sequestro di alcune migliaia di giocattoli articoli da regalo contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza presso un negozio di Pescara gestito da cittadini cinesi le successive indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica e sviluppate dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno consentito di ricostruire l'intera filiera distributiva dei prodotti illegali che erano stati commercializzati anche in altre zone d'Italia è a disposizione dei dipendenti dell'Ateneo Quilano che con il software semplice e immediato potranno segnalare eventi anche corruttivi rimanendo nell'anonimato e si tratta di un sistema per segnalare gli illeciti il servizio Wistel Bluer Univacu un sistema con il quale i dipendenti dell'Ateneo Aquilano possono segnalare illeciti o eventi corruttivi mantenendolo anonimato anche qualora non si arrivi ad una denuncia penale la parte tecnica del sistema è stata curata da Samuel Zallocco e Francesca Chiusi si tratta di un sistema autoimmunitario un sistema user friendly facilmente utilizzabile da chiunque il dipendente potrà segnalare sapendo di essere tutelato sia dal sistema che dalla legislazione un software realizzato a costo zero basato su tecnologie open source che usa protocolli assolutamente sicuri i database per segnalazione dati anagrafici viaggiano infatti su binari distinti si tratta di un sistema per la segnalazione di comportamenti anomali o illeciti diciamo che un po' un sistema informativo che consente in forma del tutto anonima di creare una sorta di sistema autoimmunitario di una pubblica amministrazione cioè il dipendente che in qualche modo rileva un qualche comportamento anomalo che fa pensare ad un illecito e di cui ne viene a conoscenza mentre lavora può in forma del tutto anonima e garantita segnalare questo all'amministrazione perché svolga delle opportuni approfondimenti delle indagini che potrebbero eventualmente scaturire poi in una denuncia o in provvedimenti di amministrativi che in qualche modo mettano l'amministrazione al riparo da eventuali condotte non corrette dei propri dipendenti quindi non necessariamente fatti che hanno rilevanza penale direttamente ma fatti dei quali l'impiegato viene a conoscenza che comunque lasciano sospettare un qualche cosa di poco chiaro e di poco pulito si accede al sistema con le credenziali dell'Ateneo all'accesso va confermata l'informativa sul trattamento dati e si può inserire o la segnalazione o si può verificare lo stato della segnalazione già fatta l'utente viene anche informato sulla presunta data in cui verrà presa in carica e chiusa l'istruttoria ancora cronaca una donna di 70 anni è rimasta ferita intorno alle 9 a Pescara dopo essere stata investita in via Monte Faito a due passi dall'ospedale civile secondo la ricostruzione degli agenti del nucleo infortunistica della polizia municipale la donna stava attraversando la strada in compagnia di un'altra persona in prossimità delle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat 500 subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti dalla vicina centrale la donna è stata ricoverata per un politrauma e sospette fratture ora invece andiamo a Chieti un funzionario dell'università d'annunzio di 64 anni è stato denunciato dalla Digos della Questura di Chieti con l'accusa di truffa aggravata l'uomo la scorsa estate avrebbe fatto timbrare il suo cartellino marca tempo mentre in orari concomitanti si trovava in altri luoghi in partenza per le ferie il futuro della fondazione intitolata Bertrando e Silvio Spaventa di questo si è parlato questa mattina a Chieti nel corso di un incontro che si è tenuto al Palazzo della Provincia vediamo onorare due cittadini illustri del nostro Abruzzo come Silvio e Bertrando Spaventa questo è l'obiettivo dell'omonima fondazione di cui si è parlato questa mattina a Chieti alla presenza fra gli altri del presidente della regione Luciano D'Alfonso della provincia Mario Pupillo e del rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico presente anche l'ex segretario nazionale della CISL Raffaele Bonanni Presidente Pupillo un incontro fruttuoso importante questa mattina con il presidente della regione con gli altri enti le istituzioni per parlare di questa fondazione e dei suoi obiettivi sì c'è purtroppo una dissonanza che è la legge del Rio del riordino delle province che in termini legislativi e amministrativi ci toglierebbe la possibilità di partecipare perché le funzioni fondamentali della provincia sono viabilità sono le scuole e la programmazione del territorio quindi ci hanno tolto tutte le altre funzioni tra le quali la cultura per noi è un'amputazione forte il presidente D'Alfonso ha preso l'impegno di poter avere una deroga proprio perché la provincia è parte essenziale di questa operazione e quindi noi vorremmo esserci sempre ovviamente se riusciamo ad ottenere questa deroga che auspichiamo possa essere fatta il più breve tempo possibile su questa fondazione Spaventa è importante secondo lei fare un gioco di squadra regione provincia università e altri enti ma assolutamente sì Beltranto Spaventa e Silvio Spaventa sono personalità che hanno disegnato la nostra nazione e purtroppo come diceva il presidente D'Alfonso non sono conosciute adeguatamente sono uomini che hanno veramente tracciato il futuro dell'Italia e quindi noi abruzzesi siamo bravissimi a non esaltare le qualità dei nostri conterranei e delle persone che hanno fatto grande l'Italia All'Aquila il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo questo è stato l'annuncio del ministro Dario Franceschini sorgerà a Palazzo Ardinghelli appena terminati i lavori 150 i cantieri attivi relativi ai beni culturali e almeno 50 lavori già terminati questi numeri dichiarati dal ministro vediamo oltre 150 cantieri privati attivi ad oggi per quel che riguarda il settore dei beni culturali e più di 50 lavori già conclusi sono i numeri snocciolati dal ministro e beni alle attività culturali e al turismo Dario Franceschini nel giorno dell'inaugurazione del Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila tempi non brevi per il recupero completo ma del resto si parla di un patrimonio storico notevole i lavori stanno andando avanti le risorse oggi ci sono i cantieri sono aperti solo per quello per quanto riguarda il mio settore il settore del patrimonio culturale ci sono più di 150 cantieri privati aperti ci sono più di 50 lavori già conclusi ci sono cantieri su interventi pubblici come questo circa 15 già conclusi e altre decine in corso quindi il lavoro sta andando avanti naturalmente è un lavoro che soprattutto sul patrimonio culturale richiede criteri scientifici attenzione i tempi non sono brevi ma questa parte è una parte che sta andando avanti naturalmente come è evidente a tutti gli aquilani non basta recuperare il patrimonio ma bisogna riportare la vita nel centro storico dell'Aquila abbiamo fatto una cosa bellissima la prima domenica dello scorso settembre portando tutto il gesto italiano all'Aquila torneranno i gestisti il prossimo 4 settembre ancora suonando gratuitamente sono segnali di restituire l'Aquila ai propri abitanti significa recuperare il patrimonio ma anche riportare la vita nel centro storico il ministro ha ricordato quanto siano importanti queste cose per la rinascita della città anche un evento come la Maratona Jets lo ha dimostrato il prossimo anno il 14 settembre verrà certamente riproposto il ministro ha anche annunciato la nascita in città di una sede di staccata del Maxi di Roma il Museo delle Arti del XXI secolo che verrà aperto a Palazzo Ardinghelli i cui lavori curati anche dalla Federazione Russa stanno per terminare già è stato chiesto ad artisti contemporanei di donare una loro opera per l'Aquila un'idea che non è più un'idea è una scelta di destinare Palazzo Ardinghelli cui restaura in fase di completamento con delle risorse della Federazione Russa che noi abbiamo integrato con un stanziamento del ministero per completare l'allestimento delle sale che anziché diventare sede di uffici come sembrava in un primo tempo diventerà un luogo di arte contemporanea per cui chiederemo ad alcuni tra i più grandi artisti di arte contemporanea di donare un'opera per l'Aquila e diventerà una sede del Maxi quindi del Museo Italiano per le Arti del XXI secolo che avrà il modo di offrire un'altra opportunità di cultura all'Aquila Buoni risultati per la raccolta differenziata a Chieti ma l'assessore Bevilacqua annuncia di puntare a un'implementazione del porta a porta vediamo A Consundivo possiamo dire ai nostri cittadini che abbiamo raggiunto e ci siamo attestati al 61% una ottima percentuale percentuale che sarà sicuramente migliorata nel corso del 2016 in quanto a breve scadrà e verrà indetta una nuova gara di appalto per gestire i rifiuti a Chieti per i prossimi 5 anni e con le migliorie che apporteremo nello stesso appalto grazie all'esperienza che tutti noi abbiamo fatto in questi primi 5 anni di gestione di raccolta differenziata beh con queste migliorie sono certo che arriveremo a una percentuale più elevata per restare tra i primi 10 capologhi di provincia in Italia come comuni virtuosi 61% lei ha detto una percentuale da migliorare secondo lei l'optimum quale potrebbe essere? l'optimum è il 70% a mio avviso 70-75 percentuale che viene raggiunta spesso dai comuni dai paeselli dai comuni più piccoli perché essendo spesso situati in situazioni abbastanza comode con la periferia con campagna si prestano sicuramente meglio a svolgere la raccolta differenziata purtroppo Chieti avendo queste due parti della città Chieti-Bassa dove già oggi abbiamo oltre il 70% di raccolta differenziata è la parte alta quella sul colle dove per conformità del territorio con vicoli e vicolettica sette piccoline non avendo spasi né condominiale né all'interno delle stesse case beh lì la percentuale si abbassa si abbassa veramente intorno al 40% e la media ci porta ad avere oggi il 60-61% il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio capogruppo del nuovo centro-destra ha presentato una legge regionale a favore dei minori denominata interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie vediamo tutto nel servizio di Elisa Leuz questa legge che poi prende non una giornata opportunità ma anche legge di Ignazio perché l'ho fortemente evoluta e quindi scherzosamente prende il nome del relatore ed è l'unico firmatario quindi è una legge che noi sappiamo che quando i ragazzi vanno nelle case famiglie molte volte vengono adottati ma se l'età è quella chiaramente più sono piccolini più è facile adottarlo più sono grandi più è difficile e molte volte è capita che questi ragazzi arrivano alla maggiore età senza avere una famiglia senza avere una scuola e il giorno in cui si compie il diciottesimo anno viene aperto quel portone e richiuso alle loro spalle ed è un dramma perché i comuni non possono più intervenire economicamente con questa legge abbiamo voluto colmare un vuoto legislativo ma soprattutto essere a fianco a dei drammi familiari che purtroppo si vivono giornalmente nella nostra regione e oggi siamo all'avanguardia in Italia abbiamo approvato questa legge l'altra notte a cui sono state collegate altre leggi che hanno fatto arrabbiare magari cinque stelle però il risultato di questa legge era troppo importante e da oggi in poi l'Abruzzo può essere fiero che a quanto meno sotto la tutela dei minori ha fatto un passo in più ovviamente come il 18esimo anno diventeranno non più a carico dei comuni che non possono ma della regione della regione Abruzzo questi ragazzi faranno un percorso formativo legato con tutto il giovane cioè quello che la regione mette in atto di formazione terminano gli studi formazione e poi avviati al mondo del lavoro ora apriamo la pagina dello sport dopo la vittoria del derby per il Pescara è tempo di preparare la partita di mercoledì sera contro il Modena la partita sarà diretta da Ripa di Nocera Inferiore da valutare le condizioni di Verre non convocato sabato scorso e va verso la conferma il difensore Ugo Campagnaro e con lui in campo il Pescara ha sempre vinto lo ascoltiamo il primo gollo con Campagnaro in campo al passivo per il Pescara però è andata bene perché è arrivata la vittoria sì, l'importante è quello al di là di se ci fanno gol o meno è importante secondo me abbiamo giocato abbastanza bene abbiamo potuto anche fare qualche gol in più anche loro lo potevano fare però alla fine 2-1 un risultato secondo me che è giusto vincere fuori cassa è quello che ci manca a noi bisogna iniziare anche con queste partite così un po' sofferte però alla fine portate a casa i tre punti che è quello che conta Pescara in cerca di continuità ora due gare in pochi giorni per chiudere l'anno con altri punti pesanti per la classifica sì, sarebbe importante noi lo sappiamo benissimo allora bisogna fare questa partita qua che viene in casa mercoledì al massimo per cercare di fare tre punti e dopo dare tutto alla fine sappiamo che sono partite ravvicinate e niente fisicamente secondo me stiamo bene abbiamo anche un buon ricambio le possiamo fare tutte e due alle grandi secondo me Ugo per quanto riguarda le partite in trasferta nelle ultime gare erano arrivate delle sconfitte e questa vittoria può servire anche per acquistare maggiore autostima nelle gare che giocate lontano dall'Adriatica sì, è quello che abbiamo bisogno noi noi sappiamo che le partite fuori casa dovrebbero essere uguali che in casa solo che magari non c'hai la gente che ti può dare la spinta in più però comunque è un rettangolo un rettangolo 11 contro 11 bisogna fare la partita sia in casa come fuori sempre uguale noi in casa stiamo giocando molto bene secondo me fuori non tanto però è un fatto mentale che con partite come queste qua possiamo iniziare a prendere l'iniziativa giusta per farle bene i problemi fisici che mi hanno fatto mollare il posto sicuramente io penso che siano andati via e adesso devo iniziare a fare delle partite con continuità lì nel mio ruolo ci sono giocatori importanti secondo me che possono fare benissimo solo che magari un po' le stanchezze che hanno dovuto fare tante partite anche ravvicinate vai un po' in fatica però se i giocatori ottimi anche se si ruota un po' secondo me questa squadra non deve sentire il cambio Morale a terra invece per la Virtus Lanciano che mercoledì sarà impegnata nella trasferta di Terni l'arbitro dell'incontro sarà Ross di Pordenone il tecnico d'Aversa recupererà sicuramente Aquilanti e spera di riavere a disposizione Vastola nulla da fare per Ferrari e Zé Duardo al capitano Mammarella invece il compito di analizzare il difficile momento ascoltiamo sapevamo che era una partita difficile credo che è stata interpretata comunque bene da Lanciano purtroppo quest'anno gli episodi vuoi che ci ricerchiamo noi vuoi per non so quale motivo girano contro oggi magari ci sono stati gli interventi del portiere magari a negarci quel pareggio meritato che per noi comunque sarebbe stato importante per tanti motivi io è normale che nei momenti difficili si dice stringiamoci attorno a questa squadra aiutiamo ricompattiamoci o ci inventiamo qualcosa noi purtroppo in questo momento magari voglio anche pensare che quello che sta facendo questa squadra magari è lo sforzo massimo e magari con questo sforzo massimo nel momento in cui le cose inizieranno a cambiare a cambiare nel verso magari giusto potremo raccogliere qualche punto in più credo che bisogna essere anche realisti e non raccontare quelle le favole Carlo la classifica dice che Lanciano è penulti però questa prestazione lascia sperare i tifosi ma no ma non questa prestazione ma credo la prestazione di Avellino poi perdi 3 a 2 in un modo pazzesco ecco però credo che fino al 2 a 0 la squadra si sia espressa su buoni livelli su una classifica che sicuramente il campo dice che non gli appartiene però dobbiamo accettarla per quella che è questa classifica ora apriamo invece la pagina della Lega Pro brucia ancora la sconfitta di ieri per il Teramo in casa della capolista Spal i biancorossi recriminano un arbitraggio ma la prestazione è stata ampiamente insufficiente e ora invece ci ascoltiamo il capitano del Teramo Ivan Speranza siamo però alle solite lontano dal Bonolis questa squadra con grande fatica riesce a fare risultati sì purtroppo sono dati alla mano che è così ripeto abbiamo fatto il primo tempo secondo me un primo tempo buono però due volte che sono andati in avanti abbiamo preso due gol abbiamo fatto abbiamo avuto l'atteggiamento giusto ripeto penso che il pallellino del gioco l'abbiamo avuto sempre noi solamente qualche ripartenza parte loro ma ci sta poi giustamente il secondo tempo rientrare comunque uno ci si butta in avanti tutto per tutto magari lascia un po' campare gli avversari ripeto non è una scusante però regalare due gol così all'avversario non è facile per regolare nel secondo tempo poi avete rischiato di prendere in più circostanze in più occasioni anche il terzo gol sì 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 è vero ripeto comunque dovevamo recuperare il punteggio quindi ci siamo buttati un po' in avanti anche con i cambi eravamo molto offensivi ed è normale siamo stati fortunati a non prendere il terzo gol però dovevamo rischiare qualcosina in più ora l'importante è mettersi da parte quest'anno che è stato a dir poco incredibile per il teramo ripartire nel 2016 con un altro spirito probabilmente cercando di invertire questo trend in trasferta sicuramente detto delle parole sante dobbiamo dobbiamo cambiare atteggiamento soprattutto fuori casa perché purtroppo ripeto facciamo fatica fuori casa a portare qualche punto a casa quindi mettiamo tutto alle spalle facciamo queste feste e poi tutti di nuovo a pedalare per fare una seconda parte di stagione alla grande tra poco riaprirà anche il mercato speranza resterà a teramo si? ma si parla di voci io ripeto ancora un'oltre hai parlato ultimamente anche del Pescara ma non ne so nulla assolutamente ripeto io sono al teramo sono concentrato qui al teramo non sono andato via nemmeno quest'estate dopo tutto quello che era successo perché tengo molto al teramo ora parliamo dell'inchiesta di RT Soccer si terrà lunedì 11 gennaio alle 9 della mattina nei giorni seguenti presso l'hotel NH di Vittorio Veneto l'udienza del tribunale federale nazionale relativa ai deferimenti della procura a carico di 29 società di serie B Lega Pro Lega Dilentanti e 52 soggetti riconducibili alle società in questione i deferimenti riguardano l'inchiesta di RT Soccer sul calcio scommesso avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro davanti al collegio giudicante compariranno l'Aquila Calcio e l'ex responsabile dell'area tecnica Ercole De Nicolo pomeriggio da dimenticare quello di ieri per il Chieti battuto dalla Iesina per 2 a 0 dopo le reti di Pierandrei e Trudo nel primo tempo la reazione dei neroverdi è stata praticamente nulla vediamo ultima di andata al Carotti di Iesi Leoncelli affrontano il Chieti che entra in campo indossando una maglietta con scritto Forza Cristiano giocatore dell'Atalante e fratello di Federico del Grosso capitano dei neroverdi vittima nei giorni scorsi di un grave incidente d'auto il primo squillo della gara lo suona Trudo al decimo minuto con un tiro dal limite fuori misura risponde subito il Chieti con Dos Santos che serve fiore l'esterno Tiatino prova la conclusione ribattuta al minuto 14 gran idea di Strappini che serve Carnevali col contagiri il numero 3 di casa tenta la girata e attento Fatone ancora Iesina avanti ci prova al diciottesimo Strappini dal limite dopo uno spunto di Trudo la palla finisce a lato al minuto 24 la Iesina va in vantaggio ancora Strappini ispirato apre brillantemente per Pierandrei che batte Fatone con un preciso diagonale alla mezz'ora ancora pericolosi padroni di casa in contropiede Trudo è letto ad arrivare prima di tutti e mettere al centro la difesa ospite riesce in qualche modo a sbrogliare Iesina che si difende bene chiudendo ogni spazio per Dos Santos e Compani il brasiliano deve dunque trovare soluzioni alternative provando dalla lunghissima distanza Niosi para in due tempi prova ad alzare il proprio baricentro il Chieti sul finire del primo tempo atteggiamento che però lascia il fianco al contropiede della Iesina Trudo parte palla al piede ed è devastante in più di un'occasione proprio dai suoi piedi arriva il raddoppio a pochi secondi dall'intervallo seppur con la complicità di Niosi sfortunato ad intuire ma non a deviare abbastanza per evitare il gol il primo tempo si chiude con un ineccepibile 2 a 0 per i biancorossi di Bugari nella ripresa ci si attende un Chieti arrembante ma la Iesina è ottimamente messa in campo e al minuto 11 Strappini ancora lui cerca la gioia personale Niosi però è attento risponde il Chieti con una punizione di Dos Santos dai 25 metri ottima la risposta in angolo dell'estremo di casa tremato dopo un gran primo tempo esce Trudo per Ragazzo tra gli applausi del Carotti proprio Ragazzo potrebbe colpire ma si intestardisce e alla fine perde palla poco prima della mezz'ora esce tra gli applausi Capitan Strappini anche lui protagonista di una gran prestazione poco dopo secondo giallo per Carnevali la Iesina resta in 10 al 34esimo Comini ha sul destro la palla per riaprire la gara Fiore imposta per Varone la parra arriva a numero 20 ospite che impatta male il pallone minuto 37 ci prova ancora Fiore dalla distanza nulla di fatto al 40esimo i 50 tifosi giunti da Chieti ammainano bandiere e striscioni non contenti di quello che hanno visto allo scadere ci prova Berricchio Niosi para in due tempi finisce 2 a 0 la Iesina chiude il 2015 con tre punti pesantissimi brutto stop per il Chieti apparso con la testa già in vacanza il TG6 finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.